Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, nuova collezione Harry Potter ed Animali Fantastici, firmata Conad. Eccola qui, dal 4 marzo al 14 aprile, magiche collezioni, un nuovo viaggio tra storie ed emozioni. Harry Potter e Animali Fantastici, eccoli qui, apriamo, album, un mondo di magia, emozioni e curiosità sulle saghe di Harry Potter e Animali Fantastici, 80 card gioco da collezionare, un album in vendita a 1,90€. E vediamo, ecco qua, colleziona tutte le card e divertiti a giocare con i tuoi amici e la tua famiglia, una bustina in omaggio ogni 20€ di spesa, ogni bustina contiene 4 card più un bollilibro, o un bollibro, decidete voi dalla pronuncia, festeggia 10 anni di scrittori di classe, ecco qua, un libro in omaggio con 20 bollibri, con un volume contenente i racconti delle 12 classi vincitrici, ricco di illustrazioni e attività sulle emozioni. Questa è la nuova raccolta Conad, scrittori di classe, e questo è l'album, e questi sono tre pacchetti di figurine. Allora, vediamoci subito l'album, è bellissima la copertina, questo è il retro, meravigliosa la scelta di colori, molto molto bello sia il... Molto bella sia la parte davanti che il retro dell'album, questo è l'indice, eccolo qui, e si parte, eccolo qua, ecco qua l'album. La carta è molto piacevole al tatto, pensavo si fossero appiccicate due pagine, invece no. Queste sono le regole di gioco, eccole qui, quindi con queste card si può anche giocare oltre che collezionare, ed ecco qui, tutte le varie card qui sollevate, vedete, sollevate questi spazi qui, queste aperture qui, ed infilate la card. Ci sono anche dei minigiochi all'interno delle pagine, qui vediamo il cappello parlante. Qui c'è il quidditch, eccolo qua. Altro minigioco, in realtà questo è uno spazio dove poter collodare quel disegno. Qui arriviamo al quarto momento magico, magiche, amicizie. Ecco qui un minigioco, trova le differenze. Qui il quinto momento magico, affetti inaspettati. Il lotta per la giustizia. Molto ricco l'album comunque. Primi amori. Ci sono anche le ditascalie, oltre ai minigiochi, le foto, qualche domanda, curiosità. Dei bellissimi artwork, delle bellissime foto. I sfondi delle pagine sono bellissimi, ragazzi. Sia nella scelta dei colori, che delle immagini. Veramente molto ben fatto questo album. Molto ben fatto. Arriviamo al decimo momento magico. Qui siamo passati adesso ad Animali Fantastici. Bella inizialiva della Conad. E qui finisce l'album. E qui c'è il quiz. C'è il quiz. Altri minigiochi. Altri minigiochi ancora. E poi il retro, che ci immerge subito nell'atmosfera magica del Wizarding World. E adesso apriamo le figurine. Questi sono i pacchetti. Eccolo qua. Praticamente il pacchetto di figurine riprende la copertina dell'album. O meglio, card, ragazzi. Card più che figurine. Queste sono card. Pacchetto delle card. Praticamente sono delle card imbustate nel classico pacchetto di figurine. Di norma questi pacchetti qui si utilizzano per le figurine, non per le carte. Comunque, ecco qui chi abbiamo trovato. Sirius Black. Poi proseguiamo. C'è anche il bollibro in mezzo. Ron Weasley. Ecco qui il bollibro. E quindi ci sono quattro card. Quattro card per pacchetto. Il retro riprende la copertina dell'album e del pacchetto di card. Proseguiamo. Apriamo queste altre due bustine. Seguiranno altri unboxing. Quindi iscrivetevi al canale per non perdervi tutti gli altri unboxing di questa collezione. Per non perdervi tutti gli altri video dedicati alle figurine, alle card Yu-Gi-Oh! Pokémon. Per non perdervi tutti i video dedicati agli anime, ai videogames, alle action figure e a tanto, tanto altro ancora. Abbiamo trovato anche Piton, uno dei personaggi più belli di Harry Potter. C'è poco da fare. Non è il mio preferito, ma è uno dei migliori. Forse c'è un doppione, sì, c'è un doppione. Qui non c'è il bollibro? Sì c'è. Eccolo qui, si è rappiccicato. E si conclude così anche l'altro spacchettamento. Che dire ragazzi? Una bella collezione. E seguiranno, come vi ho detto, altri video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un bel mi piace a questo video, commentate questo video, fatemi sapere cosa ne pensate dell'album, delle card e di questa nuova raccolta. Condividete questo video con i vostri amici. Seguitemi anche sugli altri social. Ed iscrivetevi anche ai miei altri canali YouTube dove tratto argomenti diversi da quelli trattati qui su The Golden Eagle. Trovate tutti i link in the box. E noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli!